Stiamo mostrando alla città che c'è un nuovo modo di fare, non si fa nulla da soli, si fa tutto in sinergia, la sinergia con le istituzioni, le istituzioni territoriali, le istituzioni nazionali e con le associazioni, chiaramente. Lo spazio restituito alla città significa uno spazio che fino ad oggi era inibito, ma diciamo a noi serviva uno spazio bello e soprattutto uno spazio dove noi andiamo incontro a quelli che sono ora i dettati dell'ecosessionibilità. Rinascono i giardini storici del monastero dei Santi Severino e Sossio, sede dell'archivio di Stato di Napoli, e lo fanno seguendo l'origine benedettina. Ecco dunque l'orto dei semplici, dove i monaci coltivavano le piante officinali per i medicamenti, l'agrumeto e i giardini naturali, tutto nel rispetto di valori estetici, ecologici e storici. Un intervento di restauro con i fondi del PNRR gestito con sinergia istituzionale. Tra i protagonisti anche il monumentale Platanus orientalis. È una riprogettazione della componente vegetale integrata con il restauro architettonico, con l'introduzione di nuove specie vegetali provenienti da oltre 20 vivai italiani. Si è recuperato uno spazio bellissimo che sono i giardini dell'archivio di Stato, ma anche si è garantita poi una connessione tra l'area di San Marcellino e il Decumano, quindi un pezzo di città nascosta che oggi diventa patrimonio pubblico, verrà utilizzato da tanti, da chi frequenta l'archivio, ma anche da tante famiglie, da tanti turisti, ed è un altro pezzo della Napoli riscoperta. Grazie.